non ci si ferma neppure quando siamo in ferie mi è arrivato un pacchettino che è per il mio cagnolino guarda lì il mio cagnolino come è pettegolo che mi guarda sempre negli unboxing allora questo è il pacco che mi è arrivato oggi ed è proprio per lui e ho detto ma perché non fare un unboxing e lo condividiamo insieme per farvi vedere questo acquisto che potrebbe essere interessante non solo per il cane ma anche per il gatto e di che cosa si tratta? poi raccogliamo tutto non vi preoccupate si tratta di uno zaino uno zaino che praticamente è fatto per portare gli animali adesso facciamo un po' di unboxing e vediamo perché è speciale questo zaino questo qui dovrebbe essere grigio ci sono fino a tre colorazioni differenti non fate caso alla pancia che la pancia è cresciuta durante le ferie cosa bella di amazon è il fatto che ci sono degli esercenti che vi permettono di ritirare i pacchi al posto vostro quindi voi potete andare in giro quanto volete e comunque il pacco dopo lo ritirate con calma questo è lo zaino adesso devo solo capire le istruzioni ovviamente quindi do giusto uno sguardo alle istruzioni anche se non è molto complicato da capire qui c'è la maniglia qui ci sono i vari scomparti a sinistra e a destra il bello è che dovrebbe essere anche allungabile lo monto e dopo vi faccio vedere il risultato finale adesso vi faccio vedere com'è assemblato in realtà è molto semplice pensavo più complicato invece è fatto veramente bene guardate come è stato studiato questo zaino che è pensato vi ripeto per i cani e per i gatti fino a 10 kg come struttura abbiamo la parte anteriore dove possiamo inserire il nostro cagnolino sia da sopra sia da sotto e la cosa bella è che si estende qui nella parte della spalliera vi farò vedere successivamente abbiamo come vi ho detto la colorazione grigia ma in più abbiamo questo colore giallo che è molto utile quando camminiamo ad esempio nelle strade provinciali non c'è molta luce o in montagna con le torce questo colore diventa bello vivido e si riesce a vedere abbiamo una cerniera anteriore con anche diversi morsetti come in questo caso per poter collegare borracce o altri accessori utili abbiamo questa maniglia rinforzata utile per portare lo zaino non necessariamente con le spalle poi la cosa bella è il fatto che è pensato come se dovessimo andare in montagna infatti possiamo chiudere qui la parte anteriore e anche qui sotto in modo tale che quando agganciamo lo zaino non c'è appunto il rischio che magari cade verso indietro il cane quindi dopo è scomodo abbiamo delle tasche laterali con la possibilità ad esempio di mettere qualche etichetta facciamo finta dobbiamo portarlo in viaggio il cane ovviamente non lo lasciamo da solo però se ci mettiamo delle cose importanti possiamo mettere un'etichetta per essere poi ricontattati se qualcuno dovesse ritrovare lo zaino e abbiamo anche un'altra tasca qui lateralmente quindi possiamo metterci un po' di cose tra cose nostre e anche giocattoli del cane acqua e non solo poi qui abbiamo anche un forellino per esempio vogliamo mettere un power bank mettiamo un power bank con tanto di cavo che esce qui nella parte posteriore e possiamo ricaricare il nostro telefono quando siamo in montagna vi ripeto e non solo qui c'è uno strappo questo che cosa serve? pensate è stato studiato perfettamente serve per tenere questo qui vedete aperto ok? quindi se vogliamo che il nostro cane esca la testa e rimane seduto quindi anche se è un pochino grande il cane e non supera i 10 kg tranquilli perché basta che esce la testa e rimane comunque comodo nel caso non ha voglia di camminare adesso vi faccio vedere come si estende lo zaino vieni Zeus Zeus vieni qui che ti faccio tra poco entrare nella tua nuova cuccia guardate quanto è fatto bene abbiamo questo accesso così quando ad esempio ci fermiamo per un break tiriamo questa linguetta e guardate diventa una mega mega cuccia e all'interno abbiamo anche questa parte morbida che ci permette di far star comodo il cane o il gatto quando è all'interno della sua cuccia adesso vi faccio vedere guarda Zeus è pure arrivato qui posso aprire grazie per i bacini Zeus ti voglio bene anch'io secondo me non te la compravo questa cuccia guardate lui entra qui dentro ed è comodissimo perché riesce a stare dentro la cuccia è ben ventilato perché è tutto buccherellato sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore adesso vi faccio vedere un'altra cosa se il vostro cane è un po' monello c'è anche la cintura in questa maniera siete sicuri che non vi casca giù in questa maniera siete sicuri che non esce e rimane bello comodo all'interno della sua cuccia ci sono diversi metodi per far entrare il vostro cane potete farlo entrare da davanti oppure se volete quando ce l'avete dietro le spalle lo potete far entrare da sopra mi raccomando fate attenzione soprattutto alle zampine in questo caso il cane può rimanere così oppure comodamente rimane sotto sdraiato o seduto dipende dalle dimensioni del cane io per fortuna ho un cane molto piccolo e questo mi permette di tenerlo praticamente come voglio adesso lo zaino è steso quindi è uscito ma devo dire nel complesso un bel prodottino approfitto anche per mostrarvi le misure effettive guardate con il metro più o meno sono 43 centimetri e mezzo in altezza in profondità considerando la parte larga sono 27-28 centimetri se consideriamo anche la cuccia sono più o meno 60 centimetri può tranquillamente sdraiarsi vediamo la porta centrale sono circa 23 centimetri in altezza anche lì 23 centimetri direi che è più che sufficiente considerando invece l'apertura vado ad aprire come potete vedere riusciamo anche ad arrivare a 50 centimetri con la testa fuori dipende molto da come volete far stare il vostro cane all'interno eccolo qui Zeus che è entrato lo adora questo trasportino vero Zeus che lo adori adesso ho messo Zeus nello zaino come potete vedere e lui volendo può uscire con la testa fuori io vi raccomando se il vostro cane non è troppo agitato di aprire perché così almeno se vuole sta seduto altrimenti si alza mentre nei gatti so benissimo è più difficile perché sono più autoritari quindi ci sta a chiudere anche il coperchio superiore quando vogliamo in ogni caso possiamo chiuderlo e comunque rimane sempre ben ventilato ci sono due versioni di zaino quello non ventilato che ha delle coperture in plastica e quello ventilato che costa un pochino di più parliamo solo di circa 60 euro di zaino però la qualità è buona pensate abbiamo questi ganci che aiutano tantissimo nel tracking anche nella parte posteriore in questa maniera il nostro zaino anche se camminiamo in montagna non si muove tanto e sia noi che il cane rimane comodo vedete la copertura posteriore ecco se volete quella pelliccia lì che avete visto ovvero questa qui che tra l'altro si può aprire e poi se dovesse fare la pipì il gatto il cane lo potete andare a lavare questo qui vi consiglio di toglierlo perché magari dietro la spalla potreste sentirlo e non avere il massimo del comfort già sotto comunque c'è una parte in plastica decidete voi io lo inserisco quando vado a estendere lo zaino zaino che vi ripeto mi è piaciuto e la qualità c'è quindi se siete interessati all'acquisto vi lascio il link qui sotto in descrizione è un prodotto perfetto per stare comodi sia voi che il cane fatemi sapere cosa ne pensate per me è una figata pazzesca perché si estende come una cuccia ci sta niente lasciate un mi piace iscrivetevi al canale per altri prodotti di questo genere e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti